ecco la presa sicura e lui è lui non senti pensieri non registro i pensieri guardalo lì free climbing è lui è lui vediamo il volto della sofferenza è lui è bello che non si può tornare indietro con la registrazione dici guarda dove sei ormai l'hai fatto giù operazione cambio muschettone sicurezza bravissimo è lui o non è lui certo che è lui verso il mattino mettiamo su youtube sto pensando se rifarlo o no oggi no oggi no dici vabbè tra un mese me lo riproponi no no ne facciamo un'altra questa mai la conosci se la conosci la eviti si si è così faticano è qualcosa sei ancora in cima no hai ancora un bel po' vago dietro vago un bel po' è che fatico